bene siamo alla seconda pesata della dieta anche tu aderisci alla dieta globale e metti il tuo peso nei commenti e andiamo a salire sopra salito a bilancia in funzione scendiamo dalla bilancia 94 25 alessandro lo capisci no non i zuccheri no i zuccheri no i carboidrati no ecco non si mangia la pappa no la pappa non la devi mangiare che stai facendo alessandro alessandro la pappa ti ha detto che non va mangiata la devi guardare che guardare la pappa brucia i grassi guardare i carboidrati brucia i grassi no bravo aderisci alla dieta globale di mille accendini metti il tuo peso e annota le variazioni facci sapere anche le tue strategie